Lo sviluppo economico di un territorio deve necessariamente passare attraverso un sistema infrastrutturale e di trasporti adeguato. Ecco facciamo il punto di questa situazione con particolare riferimento all'area di Taranto con Piero Bitetti candidato al Consiglio regionale pugliese con Italia in comune a sostegno di Michele Emiliano candidato presidente. E allora Bitetti queste infrastrutture che certamente vanno potenziate per realizzare davvero la centralità di Taranto. Sicuramente i trasporti sono una delle competenze più importanti di una regione. Taranto da questo punto di vista paga dei deficit e per questo siamo certi perché ci impegniamo quotidianamente a combattere l'isolamento dell'area ionica. Isolamento che sarà sicuramente diverso nei prossimi anni perché siamo certi di raggiungere i nostri obiettivi in quanto vogliamo migliorare i collegamenti su strada, su gomma, su ferro, quindi ferrovie, per aria e per mare. Trasporti e collegamenti significa sviluppo, significa favorire le imprese, significa facilitare il trasporto delle merci, significa economia, significa indotto, significa rendere più produttiva un'intera aria. Grazie a tutti. Grazie a tutti.